In questo tutorial vediamo dei problemi di riepilogo sulle equazioni parametriche. Partiamo da questo esempio. Abbiamo la seguente equazione parametrica e devo determinare il valore di Acuna diverso da zero per cui x1 è uguale a x2. Come prima cosa, ossia prima di rispondere alla prima domanda, mi devo garantire che l'equazione ammetta soluzioni, imponendo il delta maggiore o uguale a zero. Scrivendo b alla seconda meno 4c ottengo una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver eseguito questa moltiplicazione, passando all'equazione associata, possiamo esplicitare il valore di A quadro che è pari a un ottavo, estraendo la radice quadrata otteniamo 1 fratto 2 radice di 2, razionalizzando, moltiplicando sopra e sotto per radice di 2, otteniamo che A è uguale a più o meno radice di 2 su 4. Rappresentiamo ora il segno di questa disequazione. Il più lo metto in mezzo in quanto il coefficiente di A quadro è minore di zero e allora l'equazione ammette soluzioni quando A è compreso uguale tra meno radice di 2 su 4 e radice di 2 su 4. rispondiamo ora alla prima domanda. Quando x1 è uguale a x2? x1 uguale a x2 vuol dire radici coincidenti e quindi dobbiamo imporre il delta uguale a zero. Il delta l'avevamo calcolato prima, 1 meno 8 a quadro, e ponendolo uguale a zero otteniamo queste due soluzioni, ossia quando A è uguale a più o meno radice di 2 su 4. Queste due soluzioni sono soluzioni accettabili in quanto la prima si trova qui e la seconda si trova qui all'interno del campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione. Vediamo ora il punto 2. Mi viene chiesto x1 uguale 1 terzo. In questo caso è sufficiente sostituire al posto della x 1 terzo. Otteniamo in questo modo un'equazione in A che andiamo a risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo e semplificato il denominatore, a conti fatti si ottiene A uguale meno 3 undicesimi. Questo valore è un valore ammissibile in quanto si trova in questo intervallo. Passiamo ora al punto 3. Mi viene chiesto quando la somma dei quadrati delle soluzioni è uguale a 5. Ricordiamo che ogni qualvolta che abbiamo la somma dei quadrati delle soluzioni possiamo scrivere meno B su A al quadrato meno 2 C su A, tutto quanto uguale a 5. Ora al posto di ABC utilizzo i coefficienti dell'equazione. Otteniamo in questo modo un'equazione in A che andiamo a risolvere. A conti fatti otteniamo A uguale più o meno radice di 6 fratto 12. Queste soluzioni sono entrambe ammissibili in quanto si trovano in questo intervallo. Passiamo infine al punto 4. Mi viene chiesto il prodotto dei reciproci delle soluzioni uguale a meno un mezzo. Osservo che questa relazione, ribaltando il primo membro e il secondo membro, può essere riscritto in questa maniera, come il prodotto delle soluzioni uguale meno 2. Il prodotto delle soluzioni è pari a C su A ed ora, al posto di C ed A, utilizzo i coefficienti dell'equazione. Ottengo in questo modo un'equazione in A che vada a risolvere. Semplifico A e A ed ottengo un mezzo uguale meno 2. Quest'equazione risulta essere un'equazione impossibile e allora non esiste nessun valore di A per cui viene verificata questa relazione. Vediamo quest'altro esempio. Devo determinare K in questa equazione parametrica in modo tale che x1 sia uguale a x2. Come prima cosa mi devo garantire che l'equazione ammetta soluzioni imponendo il delta maggiore o uguale a 0. Ottengo in questo modo una disequazione in K che vada a risolvere. Dopo aver sviluppato questo quadrato di binomio ed eseguita la somma di 2K con meno 4K, mi rendo conto che questo trinomio non è nient'altro che K meno 1 alla seconda. Visto che il primo membro è una quantità al quadrato, certamente è una quantità non negativa e allora è sempre maggiore o uguale a 0. Ecco perché come risposta ho scritto per ogni K appartenente ad R? Ora rispondo alla domanda 1, x1 uguale x2. In questo caso dovrò imporre il discriminante delta uguale a 0. Il discriminante delta è questo che può essere riscritto come K meno 1 al quadrato e lo pongo uguale a 0. Estraendo la radice quadrata di tutte e due i membri otteniamo K meno 1 uguale a 0 da cui K uguale 1. Vediamo ora il punto 2. Mi viene chiesto la differenza delle radici deve essere uguale a 4. Dalla relazione x2 meno x1 uguale 4 posso scrivere che x2 è uguale a x1 più 4. Tenendo ora presente che la somma s è uguale a x1 più x2 e il prodotto P è uguale a x1 per x2, al posto di x2, qui e qui, posso sostituire con x1 più 4 e allora la somma s la posso scrivere come 2x1 più 4 e il prodotto P come x1 al quadrato più 4x1. La somma è uguale a meno B su A, il prodotto è uguale a C su A. Ora, al posto di A, B, C, utilizzo i coefficienti dell'equazione. Meno B su A è pari a K più 1, C su A è pari a K. Dalla prima equazione del sistema posso determinare il valore di K che sostituisco qui, nella seconda equazione. Ottengo in questo modo un'equazione in x1 che vada a risolvere. Questa equazione può essere riscritta come il prodotto di due fattori uguali a 0. Ponendo uguale a 0 tutti e due fattori, si ottiene che x1 può valere meno 3 oppure x1 può valere 1. Sostituendo qui, al posto di x1, una volta meno 3, otteniamo 2 per meno 3 meno 6 più 3 e quindi meno 3 e allora K vale meno 3. Poi, al posto di x1 mettiamo 1, 2 per 1 otteniamo 2 più 3 e quindi otteniamo 5 e allora K può valere o meno 3 oppure 5. Vediamo l'ultimo punto. La somma dei reciproci delle soluzioni deve essere uguale a 3. Ricordando che la somma dei reciproci delle soluzioni può essere scritta come la somma delle soluzioni fratto il loro prodotto e quindi questa quantità è uguale a meno B su C, uguale a meno B su C a 3. Sostituendo B e C con i coefficienti dell'equazione otteniamo un'equazione in K che andiamo a risolvere. A conti fatti si ottiene K uguale a un mezzo. Vediamo quest'altro esempio. Come prima cosa vado a determinare il campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione imponendo il delta maggiore o uguale a 0. Scrivendo B alla seconda meno 4 a C e dividendo tutte e due i termini per 4 otteniamo questa disequazione semplificata che a conti fatti è pari a 3m quadro più 9. Visto che il primo membro certamente è una quantità positiva in quanto vi è 9 che è un numero positivo più 3m quadro che certamente è una quantità non negativa, questa somma certamente è maggiore di 0 e quindi questa disequazione viene sempre verificata. Questo vuol dire che l'equazione ammette sempre soluzioni. Rispondiamo ora al punto 1. La somma dei reciproci delle soluzioni deve essere uguale a meno un mezzo. Abbiamo visto che la somma dei reciproci delle soluzioni può essere scritta come meno B su C uguale meno un mezzo. Ora al posto di B e C utilizziamo i coefficienti dell'equazione. Otteniamo un'equazione in m che andiamo a risolvere. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo e riscritto l'equazione in forma canonica, a conti fatti si ottengono due soluzioni, meno 9 ed 1. Passiamo ora al punto 2. x1 uguale 3 su 4x2 può essere riscritta in questa maniera se moltiplichiamo tutte e due membri per x2 e supponiamo che x2 sia diversa da 0. In questo modo abbiamo che il prodotto delle soluzioni deve essere uguale a 3 quarti, ossia C su A uguale 3 quarti. Ora al posto di A e C utilizziamo i coefficienti dell'equazione. Otteniamo così un'equazione in m che andiamo a risolvere. Dopo aver semplificato i denominatori portato a meno 9 a destra, otteniamo m alla seconda uguale 12, la cui radice è uguale a più o meno 2 radice di 3. Vediamo ora il punto 3, una soluzione uguale 0. In questo caso è sufficiente sostituire al posto della x 0. A conti fatti otteniamo m uguale più o meno 3. Passiamo ora al punto 4, x2 uguale 3x1. Tenendo presente che s è uguale a x1 per x2 e p è uguale a x1 per x2, al posto di x2, qui e qui, sostituiamo 3x1, ottenendo s uguale 4x1 e p uguale 3x1 al quadrato. Visto che s è uguale a meno b su A e p è uguale a c su A, ora, al posto di ABC, utilizziamo i coefficienti dell'equazione, ottenendo in questo modo un sistema di disequazioni. Dalla prima relazione andiamo a determinare il valore di x1 che sostituiamo qui, nella seconda equazione. Otteniamo in questo modo un'equazione in m che andiamo a risolvere. A conti fatti si ottiene m uguale più o meno 6. Vediamo quest'altro esempio. Come prima cosa vado a determinare il campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione imponendo il delta maggiore o uguale a 0. Si ottiene una disequazione in k che andiamo a risolvere. Dopo aver svolto questa moltiplicazione e sommato k quadro con meno k quadro, moltiplicando tutti e due membri per meno 1, cambiando diverso, e passando all'equazione associata otteniamo come soluzioni 0 e meno 8 terzi. Andiamo ora a rappresentare il segno di questa disequazione ed osservo che mi viene chiesto quando questa quantità è minore di 0. Il minore di 0 è qui all'interno. Osservo poi che meno 8 terzi la posso prendere come soluzione, mentre 0 non la posso prendere come soluzione, in quanto c'è scritto k diverso da 0. E allora l'equazione ammette soluzioni quando k è maggiore o uguale di meno 8 terzi e minore di 0. Vediamo ora il punto 1, soluzioni coincidenti. In altre parole devo scrivere il delta, ossia 3k quadro meno 8k uguale 0, ma questa equazione già l'ho risolta, ottenendo 0 e meno 8 terzi come soluzione. 0 abbiamo detto che non è accettabile in quanto k deve essere diverso da 0 e allora le soluzioni coincidenti si avranno quando k è pari a meno 8 terzi. Passiamo ora al punto 2, una soluzione doppia dell'altra. E allora posso scrivere x1 uguale 2x2, tenendo presente che s è uguale x1 più x2 e p è uguale x1 per x2, vado a sostituire al posto di x1 qui e qui 2x2, ottenendo come somma 3x2 uguale meno b su a e come prodotto 2x2 al quadrato uguale c su a. Ora, al posto di a, b, c, utilizzo i coefficienti dell'equazione. Si ottiene un sistema che andiamo a risolvere. Nella prima equazione, semplificando k e k, otteniamo 3x2 uguale a 1, da cui x2 uguale a un terzo. Sostituendo qui nella seconda equazione otteniamo un nono. E poi, eseguendo il minimo comune multiplo, a conti fatti, si ottiene k uguale meno 18 settimi. Passiamo ora al punto 3. Il prodotto delle soluzioni sia uguale alla metà della loro somma. E allora posso scrivere x1 per x2 uguale x1 più x2 fratto 2. x1 per x2 è uguale a c su a. x1 più x2 è uguale a meno b su a. Ora, al posto di a, b, c, utilizzo i coefficienti dell'equazione, ottenendo in questo modo un'equazione in k che andiamo a risolvere. A conti fatti, si ottiene k uguale meno 4. Osservo che questo valore non lo posso accettare in quanto non è presente nel campo di esistenza delle soluzioni e allora il punto 3 non sarà mai verificato. Passiamo ora al punto 4. La somma delle soluzioni sia uguale ad 1. x1 più x2 è uguale a meno b su a. Ora, al posto di b ed a, utilizzo i coefficienti dell'equazione, ottenendo k diviso k uguale 1. Semplificando, otteniamo 1 uguale 1. Avendo ottenuto 1 uguale 1, questa equazione è sempre verificata e quindi devo scrivere per ogni k appartenente ad r. Però ancora non ho finito, perché devo intersecare questo intervallo, ossia tutti i valori di k, con l'intervallo definito da k dove esistono le soluzioni dell'equazione, ossia questo. E la parte comune tra questo intervallo e questo intervallo è proprio questo intervallo. E allora, come risposta, devo scrivere k compreso tra meno 8 terzi incluso e 0. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa vado a determinare il campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione, imponendo il delta maggiore o uguale a 0. Si ottiene in questo modo una disequazione in k che andiamo a risolvere. Dopo aver svolto questo quadrato di binomio ed eseguita questa moltiplicazione, a conti fatti si ottiene k uguale più o meno 2 radici di 3. Razionalizzando, otteniamo k uguale più o meno 2 radici di 3 su 3. Andiamo ora a fare lo studio del segno di questa disequazione. Mi viene chiesta la parte minore uguale a 0 che risulta essere questo intervallo. Osserviamo che in questo intervallo dobbiamo escludere 0 in quanto nel testo c'è scritto che k deve essere diversa da 0 e allora questa equazione ammette soluzioni quando k si trova in questo intervallo. Vediamo ora il punto 1, radici coincidenti. dobbiamo imporre il delta, ossia questa quantità, uguale a 0, ma lo abbiamo appena fatto ottenendo k uguale più o meno 2 radici di 3 su 3 e allora per questi due valori otteniamo radici coincidenti. Passiamo ora al punto 2. La somma delle radici uguale 2 e allora andiamo a scrivere meno b su a uguale 2. Sostituendo a e b con i coefficienti dell'equazione otteniamo un'equazione in k che andiamo a risolvere. A conti fatti si ottiene k uguale meno 2. Questo valore non si trova in questo intervallo e allora non lo possiamo accettare e questo vuol dire che non esiste nessun valore di k per cui la somma delle radici è uguale a 2. Passiamo ora al punto 3. Soluzioni reciproche, ossia x1 uguale 1 su x2. Questa relazione può essere riscritta in questa maniera se moltiplichiamo tutte e due i membri per x2 e supponiamo che x2 sia diverso da 0. Ora il prodotto delle radici è uguale a c su a e allora possiamo scrivere c su a uguale 1. Al posto di a e c utilizziamo i coefficienti dell'equazione ottenendo questa equazione in k che andiamo a risolvere. A conti fatti otteniamo meno 1 uguale 0 e quindi l'equazione è impossibile. Vediamo ora il punto 4. La somma dei reciproci delle radici sia uguale a 3 e allora devo scrivere 1 su x1 più 1 su x2 uguale 3. Ricordiamo ora che la somma dei reciproci delle radici può essere scritta come meno b su c e al posto di b e c utilizziamo i coefficienti dell'equazione ottenendo k meno 2 fratto k meno 1 uguale 3. Risolviamo ora l'equazione. A conti fatti otteniamo k uguale 1 mezzo. Questo valore si trova in questo intervallo e quindi è accettabile. E con questo termino il tutorial su problemi di riepilogo di equazioni parametriche.